Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Oggi parliamo di supporti per monitor, ma prima di cominciare, sigla! Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Oggi parliamo di basi di supporto per monitor. Qualche settimana fa ho acquistato il mio nuovo monitor Samsung M7, uno smart monitor. Ho intanto deciso di installare il suo piedistallo. In questo video volevo portarvi un confronto su che tipo di piedistallo scegliere, se è quello proprietario o magari un supporto a braccio. Quali sono i pro e i contro di questa scelta? Lo vedremo insieme in questo video, ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Vi faccio vedere questa è la sua base d'appoggio, molto molto larga, ci permette magari di poter riporre le piccole cose, come magari la tastiera se non la utilizziamo o, perché no, magari anche il suo telecomandino. Sì, questo monitor è dotato anche di telecomandino. La base è in alluminio nero e questo purtroppo fa accumulare la polvere, come vedete qui nelle riprese. Poi c'è quest'altro piccolo braccio, sempre in alluminio, che sorregge il monitor. E tutto è ancorato con una vita. Ci sono poi dei piedini in gomma sotto che permettono di non rovinare la superficie. Questo ci permette anche di poter basculare il nostro monitor. Questa è una cosa buona, però non possiamo né alzarlo e neanche abbassarlo. Quindi questo, secondo me, potrebbe essere una pecca dal mio punto di vista. Questa è la mia postazione. Per me così, devo dire che è un po' basso per la visuale. Parliamo adesso di cable management. Come potete vedere da questa inquadratura, non si vede nessun cavo. Passano due cavi principali. Il cavo di alimentazione, che è uguale a quello dei computer, quindi magari del computer fisso per farvi capire, è il cavo HDMI. Ve lo faccio vedere da dietro. Ecco, così riuscite a capire. Eccolo qua. In realtà i cavi sono tre, parte un altro cavo HDMI, che mi serve per collegare a un altro monitor. Quindi in realtà sono tre cavi. Il tutto viene nascosto dietro la base del nostro monitor. Ecco, da questa parte magari riuscite a vedere i cavi, ma da questa prospettiva qui o nelle varie inquadrature, come vedete, non si vede nessun cavo. Questa è veramente un'ottima cosa. Ecco, ve lo giro un attimo così potete vedere. C'è questa copertura in gomma, questa fascetta in gomma, che permette di non far vedere i cavi. Veramente un'ottima cosa. Qua poi potete far passare i cavi. Questa incennatura che è stata scavata apposta per far passare i cavi. Questa devo dire che è un'ottima soluzione. Adesso è arrivato il momento di tirare le somme. È conveniente installare la sua base di ricarica? Dal mio punto di vista no e vi spiego anche i motivi. Primo motivo, quanto spazio perdiamo nella scrivania. Sì, è vero, possiamo poggiare degli oggetti, ma è comunque uno spazio perso. Secondo problema, la polvere si accumula, la vedete, non è indifferente. Sul mio piano il legno magari non si vede o su un piano bianco si vede meno, ma sul nero vi posso assicurare che ogni giorno dovete stare lì a spolverare. Terzo problema, non è possibile alzare o abbassare, quindi regolare il monitor in base alle nostre esigenze. E questo dal mio punto di vista è veramente un grosso, grosso problema. Adesso invece parliamo del braccio per monitor. Vi faccio vedere, questa è una parte del braccio, l'abbiamo ancorato con il supporto VESA che era già presente con delle viti. Questo ci permette di poterlo, come vedete, orientare sia da questa parte che anche da quest'altra parte. Questo ci permette di poterlo avvicinare a noi o magari spostarlo verso il muro. Vi faccio vedere l'altra parte del braccio. Questo viene avvitato sul piano della scrivania, qua abbiamo la marca Duronic. Questo è un passacavi che ci permette così di nascondere i cavi dietro il tubo principale. Questo viene inserito qui, una volta regolata l'altezza dopo non ci resta a far altro che stringere questa vite. Chiaramente avete bisogno di un piano come quello che ho io, altrimenti non riuscite a montare il supporto. E' anche presente questo pad, io non utilizzerò l'adesivo 3M che ci permette di non rovinare il nostro piano e il nostro supporto. Viene posizionato qui e dopo viene inserito il braccio. Signori, ecco a voi il risultato finale. Ma vediamolo meglio nel dettaglio. Questa è la sua base. Questo è un fermicavi, come vedete i cavi vengono nascosti perfettamente sia a destra che a sinistra. Abbiamo la possibilità di poter orientare in altezza, in profondità, di inclinarlo a nostro piacimento. Dopo ve lo farò vedere. Rimane tantissimo spazio sulla scrivania, in modo tale che quando non abbiamo bisogno di alcune periferiche possiamo tranquillamente spostarle in questo modo qua. Qua abbiamo il suo telecomandino. Questo è un braccio di colore nero. Su Amazon trovate anche altre colorazioni. Nella parte posteriore vi faccio vedere. Questo è il braccio. Qua è possibile orientare anche la gradazione. poterlo spostare. Abbiamo i due cavi HDMI e l'alimentazione. Inoltre ha anche tre porte USB dove sono riuscito a collegare il mio flash. Se noi andiamo sul menu della TV, vi faccio vedere che, come vedete, si illumina. Questo perché viene alimentato direttamente dalla TV. Noi adesso torniamo di nuovo a PC e, come vedete, si è spento. Questa è veramente un'ottima cosa. Che cosa utilizzo nella mia postazione? Logitech MX Mechanical Mini. Grazie a Logitech per avermi dato la possibilità di poterla provare. E il mio mouse MX Master 3. Così ho veramente tantissimo spazio. E poi anche la polvere che magari si accumula per qualche giorno non la vedete. Con la sua base, invece, dovete stare magari tutti i giorni a spolverare. Questa è una cosa che non mi piace tanto. Ma adesso veniamo alle conclusioni. Vale la pena acquistare un braccio per monitor o utilizzare la sua base? La mia risposta è comprate un braccio per monitor. Con pochi euro vi portate a casa un braccio per monitor che vi dà un miliardo di possibilità e soprattutto di personalizzazioni. Avrete tantissimo spazio nella scrivania. Considerate anche per le scrivanie più piccole non è una cosa indifferente. Possibilità di poter inclinare il monitor. Quindi lo potete inclinare sia in altezza, potete girarlo a destra, a sinistra. Potete anche tirarlo su o abbassarlo in base alle vostre esigenze. Questa è veramente un'ottima cosa. Se volete liberare spazio vi basterà spostare le periferiche vicino al vostro monitor, sotto il vostro monitor e tutta la scrivania sarà perfettamente sgombera e libera. Questa è un'ottima cosa. Chiaramente è un altro accessorio che dovrete andare ad acquistare, ma è un investimento che vi porterete nel tempo. Questo braccio di Duronic io lo utilizzo da circa dieci anni. Mi sono sempre trovato benissimo. Come vedete è praticamente pari al 9 possibile regolare. L'unica cosa è che dovete avere una scrivania che vi dà la possibilità di poter agganciare questo braccio. Ma questo ormai è una cosa abbastanza comune. Adesso però voglio sapere la vostra. Cosa vi piace di più? La sua basetta o il braccio per monitor? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi. Da questo confronto è l'Urtec era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!